Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto nel calcio. E morta una leggenda. Tutti sotto shock ha vinto anche il pallone nel 1967. Ma di chi stiamo parlando? Bobby Charlton, leggenda del calcio inglese, è morto all'eta di 86 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Era ritenuto tra i più forti giocatori della storia e secondo alcuni il più forte calciatore inglese in assoluto. Sir Robert Charlton era nato ad Ashington l'11 ottobre 1937. Vinse il pallone d'oro del 1966 dopo aver conquistato con l'Inghilterra il titolo mondiale nello stesso anno. Bandiera del Manchester United, guido da capitano i Red Devils alla conquista della loro prima Coppa dei Campioni. Fino al 21 maggio 2008 ha anche detenuto il record di presenze con la maglia del club inglese, poi superato da Wayne Giggs. Sopravvisse al disastro aereo di Monaco di Baviera, quando il 6 febbraio 1958 morirono 23 persone. E' stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 1994. Dopo aver cessato l'attività di calciatore, è stato per anni un manager sportivo, sempre con i colori dello United.